una buona giornata e che dio benedica grandemente la tua vita e tutta la tua famiglia oggi lunedì 28 pardon ogni tanto oggi lunedì 28 novembre 2022 gloria a dio è iniziata di nuovo questa settimana vogliamo gioire perché dio ci ha dato la vita e perché ancora oggi possiamo andare avanti e poter continuare questo cammino che lui ci ha posto davanti gloria al signore vogliamo subito ora passare alla parola di dio che questa mattina dice proprio così ecco tu sei incinta e partorirai un figlio al quale porrai nome ismaele perché il signore ti ha udita nella tua afflizione libro della genesi capitolo 16 il versetto 11 e ancora leggeremo un altro verso tu hai udito la mia voce non chiudere l'orecchio al mio sospiro al mio grido lamentazioni di geremia capitolo 3 versetto 56 il titolo di questa meditazione biblica è questo l'orecchio di dio dio ascolta le preghiere che gli rivolgiamo e risponde ad esse beninteso se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà questo è sottinteso e gli ascolta i nostri sospiri le nostre grida di paura le nostre grida di disperazione così come le nostre manifestazioni di gioia nella bibbia la prima volta in cui è detto che dio ha udito è riferito proprio ad agar la serva che fuggiva da sara sua padrona e moglie di abramo il signore ti ha udita nella tua afflizione la donna è incinta e l'angelo di dio le annuncia che avrà un figlio e lo chiamerà ismaele che significa dio ascolta la presenza di questo fanciullo ricorderà quotidianamente ad agar che dio l'ha ascoltata e le ha risposto più tardi in una situazione disperata quando abbandona suo figlio sotto un arbusto per non vederlo morire agar ode nuovamente questo potente incoraggiamento che hai agar non temere perché dio ha udito la voce del ragazzo lì dov'è dio ha ascoltato le grida di quel fanciullo e ha risposto a sua madre indicandole un pozzo d'acqua per dargli da bere e anche noi a nostra volta dobbiamo essere convinti che dio ci ascolta rivolgiamoci a lui mediante la preghiera anche se questa è solo un sospiro in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti e la pace di dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in cristo gesù non dimentichiamo di ringraziare e lodare il nostro dio perché ne è degno e se ne compiace quindi non chiediamo solamente in continuazione dammi questo dammi questo dio mio dammi questo ho bisogno di questo tatatata uno dietro l'altro ogni tanto fermiamoci e ringraziamo il signore per quello che abbiamo per la vita per la salute per il lavoro se ce l'abbiamo per la famiglia se ce l'abbiamo ringraziamo il signore perché questo è qualcosa che a dio piace tanto amen questa mattina vogliamo fare una preghiera perché è arrivata è arrivata un'ennesima richiesta della di un per un per una persona si chiama paolo i genitori hanno chiesto preghiera alessandra e federico mi hanno chiesto di pregare per il figlio e la richiesta è veramente lodevole ora non voglio lodarle però abbiate pazienza hanno chiesto di pregare per paolo nonostante abbia una malattia molto importante degenerativa una malattia importante hanno chiesto di pregare per la salvezza dell'anima di loro figlio per la per la nuova nascita e io voglio farlo insieme a voi quindi vi chiedo di pregare insieme a me di chiudere gli occhi e presentiamoci al trono della grazia lui si chiama paolo amen gloria a dio signore come avrai già potuto ascoltare come chissà quante altre volte già ti è stato fatta questa richiesta per paolo anche questa mattina io insieme a tutti i miei fratelli a tutte le mie sorelle che in questo momento stanno intercedendo presso il trono della tua grazia vogliamo chiederti per paolo salvezza signore ti preghiamo nel nome di gesù donagli salvezza signore una nuova vita in cristo gesù affinché lui possa ricevere questo dono meraviglioso che tu vuoi dargli ma anche affinché i genitori possano glorificare il tuo nome per aver esaudito la richiesta del loro cuore signore noi facciamo appello a una parola che tu ci hai lasciato nella bibbia credi nel signore gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia noi facciamo appello a questo verso della tua parola e ti chiediamo salva questa famiglia paolo davanti a te signore nel nome di gesù benedice anche le nostre vite che abbiamo anche noi bisogno abbiamo bisogno della tua guida della tua protezione del tuo aiuto della tua cura della della tua misericordia signore siamo qui davanti a te io assieme a tutti quanti che stiamo guardando questo video abbiamo bisogno di te e te lo chiediamo tutti insieme nel nome di cristo gesù amen amen fratelli sorelle amici dio vi benedica una buona giornata e ci vediamo domani al solito appuntamento bye bye